Ciao da Guerzo86, oggi andiamo a vedere la video recensione tra il Samsung Galaxy Note 4 e il Nexus 6 ovvero lo scontro che in tanti stavate aspettando visto che sono due dispositivi che sono stati molto apprezzati all'interno delle mie video recensioni e quindi siete in tanti curiosi di vedere quale va meglio e quale va peggio allora iniziamo subito a fare il punto della situazione, qui ci troviamo davanti a due dispositivi molto grandi molto grandi se ancora non avete provato il Nexus 6 perché il primo punto è questo se voi utilizzate per una settimana il Nexus 6 e poi vi do in mano il Note 4 sembra quasi che il Note 4 sia stato ridimensionato apposta per le vostre tasche questa è la prima impressione che mi ha fatto a me dopo aver utilizzato per qualche tempo il Nexus 6 Nexus 6 è grande 5.97 pollici ma soprattutto è bombato in questa parte centrale qua e quindi anche se ha questo punto che io lo chiamo d'ancoraggio perché quando andiamo a prendere il dispositivo in mano ecco appoggiamo sempre più o meno il dito qua però secondo me ecco c'è qualcosa che mi fa dire è prossimo alla vendita questo Nexus 6 perché davvero non trovo un feeling non trovo il giusto compromesso tra dimensioni e caratteristiche cosa che effettivamente ho trovato in Note 4 anche se mi metto le mani nei capelli dopo l'ultimo aggiornamento di Lollipop che hanno fatto versione ROM tedesca e adesso tornerò a KitKat dopo questa video recensione allora il primo punto fondamentale secondo me nella scelta di questi due dispositivi è il fatto che alla fin fine in Note 4 si può cambiare la batteria si può inserire una micro SD cosa che non avviene nel Nexus 6 Note 4 è una fotocamera a 16 megapixel è intelligentemente smart perché col comando vocale si può scattare la foto e nonché visto che ho un telefonone con il sensore battito cardiaco ci si può scattare anche un selfie ed è molto comodo sul Nexus 6 dall'altra parte non abbiamo niente di smart non abbiamo niente di diciamo così interessante a livello anche multimediale mi direte ma guarda che Android stock si ok Android stock però mettiamoci qualche funzione in più è quasi un 6 pollici è un telefonone io non c'è niente che mi faccia dire ma che bello quasi quasi è vero merita forse un Moto X 2014 merita forse un Motorola Droid Turbo se lo si trova un Motorola Moto Max detto qua in Italia in Europa insomma non voglio sminuire il Nexus 6 per carità l'hardware è eccezionale le foto vengono molto bene l'ottica stabilizzata la ricezione è al top però lo devo mettere in confronto al Note 4 il Note 4 secondo me a livello di fablet è ancora il migliore telefono sul mercato del suo genere e delle sue caratteristiche allora vedete una volta sbloccati i due terminali abbiamo di fronte due interfacce completamente differenti sulla sinistra abbiamo la TouchWiz ormai la conosciamo abbiamo visto che finalmente su S6 e S6 Edge è migliorato un tantino anche di bellezza grafica dall'altra abbiamo Android Lollipop 5.0.2 che sicuramente con la sua interfaccia con le sue notifiche con le sue impostazioni con il multiutente con una sicurezza sempre all'avanguardia secondo me riesce ad abbellire leggermente questo dispositivo in entrambi i casi abbiamo la stessa medesima costruzione hardware 3 GB la RAM la Dreno 420 abbiamo anche il Qualcomm Snapdragon 805 insomma più o meno i clock del solito 2.7 GHz stessa qualità hardware ma guardate un attimino una cosa vado a schiacciare il dial telefonico Note 4 è lento dopo aver ricevuto l'Hollipop attenzione prima andava anche molto più rapido Nexus 6 arriva dopo cioè hai una ROM stock hai una ROM senza niente mi arrivi dopo anche il Note 4 col dial telefonico secondo me sono queste ecco le piccolezze che mi fanno incacchiare quando provo un telefono però funziona appunto così allora la fotocamera sono due buonissime fotocamere a parte tutto in entrambi i casi manca secondo me un tasto hardware per scattare le foto che in un telefono così grande è fondamentale imparate da Lumia 1520 però ecco sul Galaxy Note 4 abbiamo un'implementazione più smart perché basta dire scatta per scattare una foto basta premere il sensore battito cardiaco cosa che non avviene sul Nexus 6 è molto stock l'interfaccia uno swipe per entrare in queste impostazioni qua mentre un altro un'altra pigiatina ecco sui tre puntini per andare ad attivare alcune funzioni come lo scatto frontale quindi lo scatto selfie il flash eccetera eccetera le foto vengono buone in entambi i casi anzi forse forse un pelino meglio il Nexus 6 ecco ve la metto anche così almeno potete capire che è comunque un buon camera phone però ecco niente di che i video vengono girati in 4K abbiamo l'ultra cadena entrambi i dispositivi sul Galaxy Note 4 abbiamo la particolarità di riuscire a girare video in più risoluzioni rispetto al Nexus 6 vi faccio anche vedere l'audio ok non ne parliamo perché cassa stereo contro una cassa mono e posta anche nel retro vince chiaramente Nexus 6 ma lo davo quasi più scontato la ricezione è buona in entrambi i casi Motorola forse un pelino più nitido nella conversazione audio allora andiamo a vedere una cosa fondamentale browser Chrome da una parte e Internet Explorer no scusate che Internet Explorer è browser stock di casa Samsung sul Galaxy Note 4 allora guardate una particolarità che magari in tanti non si sono soffermati ma se io vado a fare uno scroll della pagina lo vedete io non vi voglio soffermare sul browser guardate il Nexus sembra che sia un ballerino vedete come va da destra e sinistra si muove di continuo nonché essendo un phablet un dispositivo molto grande noi lo andiamo sempre ad appoggiare su una superficie e vedete come io sto appena toccando il dispositivo e si muova vedete come invece il Note 4 non si muove insomma non soffre di questa cosa è molto molto fastidiosa io ve lo dico ve lo sottolineo con due molto almeno potete anche capire il perché allora in entrambi i casi comunque il browser direi sulla norma funziona molto bene nessun tipo di puntamento un pelino più veloce Chrome ecco in generale ma siamo proprio si parla di inerzia quindi un leggermente più veloce Chrome sul Nexus 6 però insomma diciamo che anche Note 4 finalmente ha un browser di tutto rispetto doppio tappe in entrambi i casi funziona molto bene vedete anche come il Note 4 vado a renderizzare al meglio il testo devo dire insomma una navigazione promossa in entrambi i casi vi troverete sicuramente bene la cosa in più che ha sicuramente Note 4 rispetto al Nexus 6 ma rispetto anche a tutti gli altri è questa il pennino la facilità di andare a prendere un memo rapido in qualsiasi situazione siete in un'università dovete prendere un appunto al volo eccolo qua condividerlo con i vostri amici si può fare sul Nexus 6 vedete che assolutamente non si può fare questo secondo me è un dispositivo talmente grande come questi due 5.7 pollici 5.96 QHD entrambi quindi due dispositivi meravigliosi si fa leggermente fatica a non avere un'implementazione in più come ad esempio c'è qua sul Note 4 quindi io direi che in linea di massima sono due terminali pompati con un hardware eccellente fantastici in entrambi i casi se dovessi scegliere come devo fare perché non posso ottenere un M8 un Note 4 e un Nexus 6 altrimenti sarei quasi figlio di Berlusconi in questi casi devo scegliere tra questi terminali e secondo me la mia scelta è andata o andrà ecco sul Note 4 ottenere il Note 4 mi sembra una scelta più ragionata ragionevole e fatta bene rispetto a tenere un Nexus 6 che alla fin fine non mi ha entusiasmato ecco questa è stata la scelta ok un bel telefono ok un buon dispositivo finalmente un Nexus fatto come si deve però doveva essere più piccolo e più portatile questo do ragione a tutti quelli che l'hanno detto per oggi è tutto cari amici come sempre condividete il video cliccate mi piace e noi ci sentiamo tranquillamente nella prossima video recensione un saluto un abbraccio dal vostro Guerzo86 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.